È affascinante sapere che noi in realtà ci muoviamo a spirale, perché oltre a girare attorno al sole, il sole gira attorno alla galassia e quello che vedete è come ci muoviamo realmente dentro alla Via Lattea. La cosa incredibile infatti è che il sole si muove nella Via Lattea a circa 220 km al secondo, quasi 800.000 km all'ora.